A partire da lei, Pregliasco, perché Paola Moscardino ci mostra una strategia, quella di puntare su messaggi che tornino a incutere terrore, a alimentare la paura del virus. Lei non ha fatto tanto diverso qualche giorno fa, quando in un'intervista ha suggerito di non andare in vacanza. Pensa che siano messaggi che funzionino in questa fase della pandemia? Su quell'articolo mi sono arrivate bordate pazzesche ovviamente sui social di negatività. Ci sta, voglio dire, l'elemento davvero non è facile, quello che vedo di ricordare che il virus c'è ancora e il virus può... persone giovani come abbiamo sentito. È una malattia che ancora infastidisce, il vaccino ha un'evidenza micidiale di efficacia e quindi io dico perché no? Ecco, rimangono dei grandi dubbi e non sarà facile riuscire a scalfire i dubbiosi, perché i dubbiosi buttano lì alcuni aspetti riguardanti il fatto che non si sa cosa succederà fra dieci anni, non si sa quali sono gli effetti avversi, che questo vaccino è sperimentale, quindi cose che purtroppo minano la fiducia e la voglia di vaccinarsi. E davvero il messaggio di convincimento non è facile. Una quota parte di persone non vaccinate credo siano magari un pochino indolenti, un po' disattenti, che non hanno voglia di andare nel lab e magari con iniziative mirate di avvicinamento e di diciamo col medico di famiglia, con i camper come ho sentito appunto farete vedere fra poco come facilitazione. Purtroppo è un elemento di comunicazione che a volte lascia correre. Mi sono un po' arrabbiato in due occasioni televisive con degli opinionisti che buttavano lì lasciando per scontato il concetto appunto del vaccino sperimentale. E lì poi alla fine ci siamo accapigliati e non credo sia servito. Ho la sensazione, pregniasco, che tra poco la faremo nuovamente arrabbiare, ma magari ci aiuterà a riportare anche gli argomenti sul terreno della scienza e anche del confronto tra tesi fondate sull'evidenza scientifica.